vedremo come realizzare un'unità di apprendimento grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in particolare andremo ad utilizzare una piattaforma che si chiama magic school che nasce per il mondo della scuola se notate ho anche inserito qua in alto l'estensione del all'interno ovviamente del browser google chrome per inserire questa estensione sono andato sul chrome web store chrome store di google qua potete scrivere magic school e andare a recuperare l'estensione scaricata l'estensione potete abilitarla e disabilitarla ogni volta che lo ritornete opportuno all'interno del vostro browser durante la navigazione qual è il vantaggio di avere abilitato sempre l'estensione di magic school che in qualsiasi momento è possibile aprire ovviamente il motore di ricerca raina che appunto diciamo la chat bot in tema di magic school oppure andare a scegliere altri strumenti presenti all'interno suddivisi per planning contenuti questionari eccetera eccetera e poi qui andare a selezionare quello che ci interessa quindi lavorare sulla pagina in questo caso del mio sito se faccio il par e magari utilizzare gli strumenti per approfondire prendere appunto incominciare magari a creare i propri contenuti è possibile lavorare anche su magic school direttamente andando sul sito è necessario registrarsi quindi è sufficiente andare su magic school punto ai per potersi registrare la prima volta ovviamente la procedura che andremo a fare è quella di sign up free quindi andiamo a registrarsi gratuitamente possiamo utilizzare sia l'account scolastico che l'account privato io faccio un mio login perché mi sono già registrato nel momento in cui entro all'interno del mio profilo vedo una prima sezione iniziale con tanti strumenti in realtà sono solo una piccola parte di questi strumenti perché io ho aggiunto nei preferiti ovviamente alcuni di questi strumenti qua in basso invece troverete circa una sessantina di strumenti integrati all'interno di magic school tutti basati sull'intelligenza artificiale per ognuno di loro c'è una piccola descrizione che aiutano a farci capire a cosa può servire vi ricordo che se qualcuno volesse tradurlo in italiano può utilizzare o il tasto destro oppure andare nelle impostazioni in basso a sinistra e andare a variare le impostazioni in modo tale da avere la sua diciamo nella sua interfaccia in italiano facciamo un esempio di quali strumenti possono essere presenti all'interno di magic school beh il piano della lezione guardate generano un piano di lezione per un argomento un obiettivo che stai insegnando generatore anche di peino programma educativo individualizzato quasi un pochino diverso rispetto al nostro pepero come struttura base e può essere molto molto utile ricordiamoci che lo strumento nasce secondo standard americani nonostante poi dopo all'interno vedrete quando andremo a fare dei lavori ci chiederà che tipo di standard vogliamo utilizzare o a quel punto li possiamo anche variare però fondamentalmente nasce per questo mondo adesso vedremo prima come ho realizzato una piccola unità di apprendimento assistita e supportata dall'intelligenza integrata dall'intelligenza artificiale e poi magari vi propongo un'attività da fare voi all'interno di un framework didattico vado all'interno del sito imparare ad imparare qua nella sezione intelligenza artificiale trovo la voce uda magic school questo uda magic school non è altro che una pagina co integrato all'interno di google ovviamente ed è un esempio di una lezione sul dna realizzata grazie al supporto dell'intelligenza artificiale tranne l'immagine che prendo da copilot perché dopo vedremo insomma le immagini in magic school non sono così insomma non sono presenti come come risorsa o quantomeno non hanno la stessa efficacia e vado a prenderla da copilot ma al di là di questo dovrei essere io insomma con un po di fantasia e parto da uno scenario descrivo questo scenario rapidamente per poi farvi capire in che modo intendo utilizzare questa risorsa parliamo in particolare di stefania una docente della scuola primaria suggerisco questo tipo di attività soprattutto l'avrò detto più volte in vari contesti per chi deve affrontare magari il concorso e ha bisogno di preparare un tale apprendimento nelle 24 ore insomma rispetto alla prova che dovrà fare e quindi anche l'intelligenza artificiale può aiutarci e ovvio che ricordiamoci che tutto ciò che viene prodotto l'intelligenza artificiale in ogni caso deve essere validata almeno per il momento e il livello di accuratezza non ci consente di essere serene rispetto alle produzioni ma deve essere sempre ci deve essere sempre un passaggio dall'intelligenza naturale di cui dice dalla nostra lettura revisione e validazione ok partiamo da uno scenario di questo tipo abbiamo una docente stefania in questo caso la racconto rapidamente che deve spiegare il dna ai suoi ragazzi lei però alla possibilità di cercare risorse in rete e quindi costruirsi un suo percorso può prendere un suo vecchio libro del liceo e a quel punto lì quel libro del liceo si rende conto che magari è un libro dove i contenuti rispetto al target a cui si rivolge quindi parliamo della scuola primaria è un pochino differente allora decide di chiedere insomma no a suo collega e questo collega gli consiglia guarda magic school potrebbe essere una soluzione adesso al di là della descrizione un pochino così simpatica della situazione perché insomma l'intelligenza artificiale lascia un po così basiti ma al di là di questo vedrete l'efficacia di alcuni strumenti inseriti in magic school qua trovate il sito di riferimento che magic school punto ai l'abbiamo già visto prima qua all'interno vedete proprio lo screenshot di tutti i passaggi che ho utilizzato che ho fatto per sviluppare la mia unità di apprendimento partiamo da un testo di riferimento che può essere la pagina 40 come inserisco nella descrizione del libro del liceo e in cui per biologia e non durante la disciplina biologia abbiamo affrontato il dna prendo pagina 40 ma potrei prendere qualcun'altra step numero uno quindi e prendere questo testo abbastanza completo a livello liceale e livellarlo livellarlo significa trasformarne i contenuti e ridette rendendoli adeguati al target a cui ci rivolgiamo e chi lo può fare beh lo possiamo fare noi non facendo un riassunto alleggerendo i testi va bene però probabilmente l'intelligenza artificiale in questo mi può aiutare come mi può aiutare adesso lo vedremo step by step io prendo lo strumento che si chiama eccolo qua livellatore quindi la traduzione non è proprio il massimo generatore riassunto livellatore di testo vedete anche la bilancia quindi nel livellatore di testo decido di prendere il testo da inserire qua o prende un allegato e lo aggiungo è la stessissima cosa scelgo il grado a cui mi rivolgo supponiamo di doverci svolgere a una quinta elementare vi ricordo che questo sistema è quello anglosassone quello americano prescola scuola materna poi dalla prima alla quinta dalla prima media sesto grado a la terza media e poi dalla prima superiore fino al quarto anno in realtà perché insomma in quattro anni ci si diploma in altre parti del mondo e poi inizia il percorso universitario prendiamo il quinto grado qua possiamo inserire il testo oppure addirittura cercare di caricarlo o pdf o da immagine o da word supponiamo di prendere un testo da word che ho già preparato all'interno di magic school vediamo un pochino allora materiali usati l'altro giorno nel webinar caso studio esercizi magic school vado a prendere per esempio questo argomento che è quello della cromatografia su carta in fase ascendente ecco l'esempio del dna è già pubblicata facciamo quest'altra che quindi cromatografia su carta abbiamo questo testo andiamo grazie a questo testo a generare ovviamente un contenuto livellato a un target differente a questo punto questo testo potrebbe essere adeguato ma potremmo anche modificarlo copiamo questo testo questo testo una volta copiato dovremmo metterlo all'interno di un framework quindi di un di un file dove trovate questo file andiamo all'interno di imparare ad imparare era appunto il mio sito qua nell'ultima sezione trovate il link dove c'è questo framework didattico di riferimento quando lo aprirete voi ovviamente sarà un framework in sola visualizzazione un file in sola visualizzazione ovviamente per evitare di dover intervenire poi ed eliminare il tutto quindi la prima operazione che dovete fare è quella di andare su file e creare una copia di questo file quando andate a creare una copia di questo file la nominate e quindi la chiamate da con ai e poi il vostro cognome ecco qua questo è un po la sintassi volendo possiamo mettere anche il titolo del nostro lavoro creiamo questa copia questa è quella copia che poi potrete consegnarmi supponiamo di fare questa attività sulla cromatografia su carta ok poi dopo magari diamo un titolo adeguato anche al nostro target alunni scuola primaria quarto anno ok discipline coinvolte possiamo prendere scienze possiamo prendere matematica possiamo prendere anche italiano ecco trasversalità perché poi vedrete ci sono vari elementi vari contesti sul cui lavorare il primo passo potrebbe essere anche una sola disciplina livellatore di testo l'abbiamo utilizzato come strumento all'interno di magic school abbiamo livellato il testo originale in un testo adeguato incolliamo direttamente il testo qua e quindi avete completato la prima sezione questa si può modificare senza nessun problema ok a questo punto possiamo lavorare su un altro strumento tutto quello che vi sto dicendo è abbastanza facoltativo questa è una linea guida su cui lavorare non è detto che bisogna per forza far così e quindi insomma potete utilizzare anche altre risorse però generalmente ecco rispetto alla richiesta di stefania che questa collega della scuola primaria io mi comporterei in questo modo probabilmente la spiegazione anche se ridimensionata potrebbe non essere adeguata a tutti i nostri alunni e quindi magari è necessario trovare quello che si chiama come strumento delle spiegazioni multiple cioè magic school ci dà la possibilità di raccontare in varie modalità con vari esempi lo stesso argomento come possiamo fare ritorniamo in magic school dopo aver lavorato con il livellatore torniamo indietro e a questo punto andiamo su spiegazioni multiple lascio sempre il quinto grado preimpostato quindi la mia quinta elementare incollo il testo livellato creato precedentemente vado a generare le spiegazioni multiple tale quale prendo questa risorsa la copio e la giungo sempre nel mio framework didattico la prima operazione che stiamo facendo è quella di prendere i testi produrli copiarli incollarli poi il secondo step cioè quello finale sarà quello di rileggere dare la visione di insieme integrare eliminare alcuni esempi e quindi eventualmente potenziare il nostro lavoro ma la struttura iniziale è quella semplicemente di portare risorse prodotte con magic school all'interno del nostro framework didattico copio questo link vado nell'uda incollo qua questa parte se vedete gli esempi che fa sono degli esempi inchiostri colorati verdure marcescenti ecco detto così insomma però in realtà vedrete che andremo con l'inchiostro magari a fare anche delle attività di laboratorio oppure con le clorofille o i coloranti alimentari insomma ci sono varie situazioni benissimo stiamo facendo un'attività di tipo stem quando parliamo di stem sappiamo che non si tratta di una metodologia didattica vera e propria ma si tratta di un approccio differente alle varie discipline di carattere scientifico tecnologico ingegneristico e matematico ok dobbiamo sempre ricordarci di legare questa metodologia didattica questa questo approccio didattico scusate a una metodologia potrebbe essere quella dell'ibse dell'inquare dell'indagine potrebbe essere quello del pbl potrebbe essere quello del till del tinkering ce ne sono varie metodologie didattiche per le stem all'interno di magic school esiste un piano di lezione basato sul modello delle cinque e adesso vediamo come funziona il modello delle cinque e se notate qua c'è scritto coinvolge esplora spiega approfondisci e valuta in realtà sono le indigi l'explore explain l'elaborate e l'evaluate insomma sono i cinque elementi che caratterizzano appunto le cinque in inglese e allora ritorniamo all'interno del nostro strumento magic school torniamo indietro e apriamo il piano di lezione basato sul modello delle cinque il modello delle cinque si può integrare in una modalità di classe capovolta quindi utilizzare la metodologia didattica della flip classroom per esempio e quindi la fase di engage proporla in una fase diciamo iniziale pre scolara nel senso prescolastica nel senso che addirittura non esaggiamo prescolare nel senso prima della lezione in presenza possiamo fornire questa risorsa e i ragazzi possono accederci accedervi tranquillamente quando vogliono prima di arrivare a scuola incollo il testo che abbiamo inserito qua vogliamo personalizzare qualcosa include attività pratiche lavori di gruppo beh cooperative learning modalità gig so ma non per forza standard italiano andiamo a generare voi siete liberi qua di mettere qualsiasi cosa e lavori di gruppo e collaborative learning esperienze laboratoriali io ho preso l'esempio il testo invece l'ho copiato dal percorso precedente vado a generare il modello delle 5e lui cerca di adattare un po la mia richiesta al modello delle 5e vediamo un po qualche piccola imprecisione nel coinvolgere ecco introduce esplorare in realtà poi le stendere con l'espandere insomma qualche piccola imperfezione c'è però noi quello che interessa e che ci siano per introdurre la comodità su carta in fase precedente guarderemo degli esempi didattici quindi insomma faremo vedere dei piccoli video delle risorse in cui faremo vedere l'attività pratica per esempio le varie clorofille presenti all'interno magari delle foglie questa è la nostra fase di invecchio supponiamo che la struttura possa essere insomma accettabile per il momento noi copiamo il nostro testo andiamo all'interno del nostro framework didattico e andiamo a incollare il tutto qua è tutto in giallo perché probabilmente avevo messo delle impostazioni in giallo ma questo possiamo anche toglierlo quindi togliamo il nostro evidenziatore che è alquanto inutile la valutazione ok le lavorette anche l'estendere e lo spiegare l'esplorare ecco le engage avrei fatto un lavoro un pochino diverso quindi avrei messo a disposizione una risorsa però insomma ricordiamoci che l'ultimo passaggio abbiamo detto alla fine è sempre quello dall'intelligenza naturale quindi saremo noi allora vogliamo lavorare su una di queste fasi ne scegliamo una per ragioni proprio di tempo poi dopo il resto vediamo di richiamarle all'occorrenza lavoriamo sull'elemento engage sul coinvolgimento su quella che è la prima fase uno strumento molto utile potrebbe essere un piccolo video engage di youtube in cui si vede proprio il processo cromatografico si osserva attraverso un timelapse attraverso insomma una serie di risorse che possiamo trovare in rete queste risorse in rete però devono essere adeguate quindi significa che ogni docente dovrebbe in teoria o avere già una serie di link a cui insomma no si ha fatto la sua playlist la recupera siamo abituati quando ormai troviamo una risorsa che può essere utile di aggiungere nella playlist dedicate all'occorrenza richiamarla questo è un lavoro che con youtube si può fare invece possiamo anche cercare attraverso youtube in questo modo quindi andiamo su youtube parliamo di cromatografia 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 degli smartis vediamo se è possibile fare qua ci sono alcune cromatografia degli smartis ci sono alcuni laboratori fatti da insegnanti fatti da alunni insomma fatti da anche questo esperimento della cromatografia all'interno guardate qua ce ne sono un bel po' quindi possiamo scegliere una tra le tante vediamo se questo video però è un video adeguato no è un video adeguato come faccio a saperlo dovrei guardarlo tutto per carità dura 55 secondi quindi già questo mi lascia un po' perplesso prendiamo il secondo video è un pochino più lungo vediamo se è adeguato condivido il link quindi copio questo link vado all'interno dello strumento che si chiama riepilogo video di youtube quindi noi mettendo il link guardate qua possiamo dire fai in 5 punti elenco in un paragrafo in 20 parole insomma non esageriamo insomma in 5 punti elenco ciò che tratta il video e avremo in pochissimo tempo la possibilità di vedere di che cosa parla il video utilizza una tecnica simile alla cromatografia csi per scoprire l'origine di inchiostra note di note anonime utilizzo della carta da filtro separazione dei colori tramite capillarità dell'alcol spiegazione funzionamento la cromatografia supponiamo che questo possa andar bene quindi questo è un riassunto che ho recuperato attraverso questo lavoro copio il tutto vado nella mia unità di apprendimento e la incollo ok anche qua ho ancora attiva la funzione che è quella appunto dedicata all'evidenziatore giallo e questo potrebbe essere un modo quindi io questo video lo prendo e prendo anche il link giusto per avere riferimento copio il link ritorno nel mio framework e la prima cosa che faccio in alto riassunto la videocomotografia vado a capo incollo il link anche per capire da dove è stato tratto questo contenuto ok possiamo anche togliere il titolo tanto è inutile si capisce che insomma stiamo lavorando con questo strumento perché è direttamente collegato datemi il tempo di ottimizzare il tutto quindi qua all'interno se notate abbiamo fatto questo piccolo lavoro questo link io dovrei proporlo darlo ai ragazzi loro prima di venire a scuola se stiamo lavorando in modalità capovolta se stiamo in classe invece prima di partire possiamo proporre questo video questo video tra virgolette engage e poi su questo video porre delle domande per porre delle domande è necessario lavorarci no e quindi crearle delle domande oppure è possibile attraverso vari strumenti in particolare vedremo quelli di magic school ma vi posso garantire che poi uno strumento molto valido simile che lavora su questo e anche qui ziz però al di là di questo noi visto che stiamo lavorando con magic school ritorniamo su magic school torniamo indietro e prendiamo un altro strumento che è quello che crea domande sul video di youtube quindi parliamo di numero di domande possiamo 5 7 sono domande che servono per capire se il ragazzo ha seguito o meno il tutto cancelliamo il video presente qua proviamo a incollare il nostro video ma in teoria dovrebbe già averlo identificato andiamo a generare queste domande è ovvio che sono domande create in maniera automatica ci sono anche le risposte in qualche modo noi possiamo anche modificare copiamo il tutto e inseriamo queste domande all'interno della nostra attività quindi lo inseriamo in questo modo datemi il tempo di fare la solita operazione quindi il video in questione e il video precedente abbiamo lavorato e creato delle domande ci interessava fare questo tipo di lavoro e siamo riusciti a farlo queste domande servono non servono chissà serve soltanto per catturare l'attenzione dei ragazzi è solo questo beh potremmo lavorare sull'explorer sull'explain dando con l'explorer ovviamente delle risorse dove andare a vedere altri contenuti quindi dei riferimenti a dei link a delle pagine web in cui si parla a dei libri di testo cartacee ricordiamoci che non deve essere esclusivamente digitale il mondo della scuola ma può essere anche analogico perché no e poi possiamo lavorare sulla fase della spiegazione o in maniera frontale anche questa non è una cosa che io escluderei perché alcune volte serve un pochino per capire no a che punto sono arrivati i ragazzi con il loro apprendimento di gruppo perché stiamo pensando a dei gruppi di lavoro che si mettono lì a esplorare e quindi a vedere altre risorse per l'apprendimento a questo punto dobbiamo lanciare quella che si chiama la fase di elaborazione attraverso una sfida quindi chiediamo ai ragazzi di rispondere un pochino alla nostra richiesta a un nostro problema che potrebbe essere quello di andare a creare un'attività di lavoratori i lavoratori di per se sono delle attività che possono basarsi sulla ricerca ma prima di arrivare alla ricerca è necessario lavorare in sicurezza e quindi è necessario acquisire quelli che sono gli elementi base rispetto a una semplice attività che diano delle garanzie nel senso che non possiamo pensare di fare un laboratorio di chimica di fisica di biologia per tentativi è una tecnica che facevano gli alchimisti ma in me non tutti gli alchimisti poi hanno avuto una vita lunga quindi è necessario proprio seguire inizialmente quello che si chiama esperimento che un po va a contraddizione con quello che il mondo delle stem che prevede dei gradi di libertà però poi dopo arriveremo anche all'elemento stem l'attività di laboratorio la possiamo proporre noi in che modo abbiamo ovviamente il titolo del nostro argomento quindi copiamo semplicemente il nostro titolo quindi andiamo all'interno di magic school e andiamo a recuperare ovviamente lo strumento che ci serve per fare questa attività laboratorio di scienze quindi nella mia selezione ho messo anche questo descrizione del laboratorio quindi cromatografia su carta delle loro file presenti nelle foglie possiamo dire anche di che cosa attraverso un laboratorio domestico ok scriviamo domestico perché insomma alla fine ci interessa che possa essere fatto anche dai ragazzi in un contesto non per forza no di un laboratorio quindi quali ci crea l'attività non proprio con tutti i passaggi ok non so se notate siamo vedere le attività curriculari standard però insomma la prima parte che possiamo anche copiare attraverso una selezione e il nostro lavoratore quindi è sufficiente copiare il tutto andare all'interno di laboratorio eccolo qua riepilogo youtube domande fatto sempre con questo nell'altra tabella andiamo ad incollare il nostro lavoro su laboratorio eccolo qua quindi questa attività poi va fatta dai ragazzi va in qualche modo documentata raccontata e poi insomma si potrà presentare al resto della classe è ovvio che dobbiamo passare adesso alla fase di valutazione noi possiamo creare dei test dei quiz formativi inizialmente ma a un certo punto poi bisogna valutare anche tutto ciò che hanno fatto quindi cosa hanno imparato sulla cromatografia come può essere utilizzata quindi potremmo fare delle domande dipendenti da testo oppure potremmo fare delle connessioni utilizzare lo strumento connessioni con il mondo reale per cercare di creare quello che un compito autentico prendiamo il nostro testo originale partiamo da questo rispetto a questo testo scusate un po esagerato preso troppe cose eccoci qua prendiamo questa parte qua andiamo all'interno di nostro magic school abbiamo detto che vogliamo delle connessioni rispetto all'argomento che stiamo trattando con il mondo reale vediamo cosa ci propone incolliamo il nostro testo e vediamo cosa va a generare è ovvio che qua ci darà degli esempi nella vita reale è ovvio che una descrizione è uno scenario che il primo elemento che caratterizza un compito di realtà barra autentico sappiamo poi l'autenticità essere una cosa un pochino più specifica copiamo i due esempi giusto per la nostra consegna andiamo all'interno del nostro laboratorio di scienze quindi connessione con la vita reale è ovvio che sono due esempi ma non per forza bisogna proporgli tutte e due utilizzare la cromodografia su carta per identificare gli ingredienti nei cibi ad esempio immagina di essere uno chef che desidera scoprire gli ingredienti segreti di una salsa puoi usare la cromodografia su carta per separare gli ingredienti identificarli accuratamente comincia a essere già abbastanza impegnativo diagnosi medica ci sono altri esempi no quindi io direi altri esempi vediamo un po se ci dà la possibilità no siamo andati su azioni ok noi torniamo indietro andiamo su connessione con il mondo reale maggior parte gli strumenti sono gratuiti ma ovviamente ci sono delle altre ecco connessione ruole romanzo carta nei laboratori medici ok facciamo una richiesta proprio mondo reale mondo reale con i bambini generiamo questo vediamo se riesce a se avremmo dovuto inserire altre informazioni comunque ci fermiamo alle prime tanto alla fine avete capito che se scrivete un test adeguato un prompt adeguato vi da delle risposte possiamo anche inserire delle domande possiamo anche creare delle rubriche di lavoro allora rispetto alle domande ovviamente molto semplice prendiamo un testo lo copiamo e lo incolliamo quindi questa parte qua potete saltarla diventa interessante farvi vedere solo rapidamente come è possibile avere anche una rubrica di valutazione quindi è sufficiente cliccare qua ci rivolgiamo a gli studenti saranno in grado di scrivere un saggio argomentativo gli studenti saranno in grado di sviluppare un'attività di laboratorio sulla cromatografia su carta ok titolo del compito è sempre cromatografia la cromatografia su carta poi possiamo dare il titolo che vogliamo descrizione del compito possiamo prendere uno di questi lavori quindi applicazione in questo caso medica ma è giusto per fare un esempio lo inseriamo qua scala di punteggio io farei da 1 a 4 siamo abbastanza abituati personalizzazione mettiamo mai numero pari di cose personalizzazione aggiuntiva della rubrica insomma direi che questo possiamo anche per il momento ometterla clicchiamo su genera e mi va a creare questa rubrica di valutazione in che modo per quattro livelli comprensione dei concetti esecuzione dell'esperimento analisi e interpretazione dei risultati comunicazione e presentazione diciamo quali sono quattro diciamo competenze basi livelli sono lo studente dimostra solida comprensione dei principi eccetera eccetera invece lo studente non dimostra alcuna comprensione diciamo che questo è uno strumento molto utile è ovvio che più di scrittori mettiamo più di qualità e la nostra rubrica di valutazione quindi copiate la rubrica andate all'interno della vostra uda e la incollate qua incollando qua la vostra uda togliete sempre il solito problema insomma del lo impostate quindi anche da voi sarà così perché se prendete il mio file nell'impostazione l'evidenziatore quindi abbiamo anche inserito la nostra rubrica la parte finale del feedback sul lavoro degli studenti piuttosto che le domande possiamo anche ometterla per questa attività però sono delle risorse che sicuramente troverete all'interno di magic school buon lavoro spero di essere stato chiaro il quello che farete poi ricordatevi di inserire il vostro nome e cognome qua in alto il nome e cognome e poi fare file scarica lo scaricate anche in pdf va benissimo e poi per chi deve consegnarlo sta seguendo il video come i miei corsisti di carpi potete consegnarlo invece per altri colleghi che stanno facendo un lavoro più approfondito quindi diciamo dedicato più a una preparazione vera e propria di unità di apprendimento e ovvio che dovete fare voglio un passaggio e armonizzare tutto quello che abbiamo inserito magari integrando anche dei link a delle risorse per la fase di explain di spiegazione e di explorer quindi di approfondimento grazie per aver seguito questo video alla prossima lezione